Amici di Player Inside, eccoci qua per il recap dell'Xbox Partner Preview. Esatto, oggi c'è stato questo evento in cui in una trentina di minuti sono stati presentati alcuni titoli. Alcuni nuovi, alcuni dei quali sapevamo già che sarebbero stati presentati, tra cui per esempio Alan Wake 2 The Lake House, che è l'espansione. Esatto, questa espansione per Alan Wake 2 che ha il compito arduo di riempire i vuoti tra Alan Wake 2 e Control. Sì, perché si sono viste anche alcuni setting, alcune location, ecco direi già da qua possiamo intravedere, che sono più tipiche appunto del Federal Bureau delle Control, l'ho detta la Cable Management, però insomma sappiamo di cosa stiamo parlando e sappiamo anche della connessione tra questi due universi, che in realtà appunto fa parte tutto dello stesso ecosistema di Remedy. Esatto, e sta per arrivare già questo mese. Sta per arrivare già questo mese, esattamente. Passerei a Blind Fire che è un gioco, uno shooter in Early Access che è già disponibile appunto in Early Access. Non, diciamo, non abbiamo capito tantissimo del gioco in sé, è proprio uno shooter. Però essendo già disponibile almeno fra poco in Early Access... Sì, c'è poco da dire, basterebbe provarlo. Ve ne potete rendere conto, vi potete rendere l'idea, non che mi abbia attirato particolarmente questo titolo, se devo essere onesto, ma io, lo sapete, non sono tipo da titoli del genere. Per quanto riguarda Cronos The New Dawn, invece, c'è stata una bella presentazione da parte del nostro adorato e mai contestato per i trailer di Silent Hill 2 all'inizio, Bloober Team. Assolutamente! Assolutamente, i miglior team del mondo, assolutamente. Ovviamente si scherza sul fatto che avevamo avuto dei pregiudizi, no? Non dei pregiudizi, dei giudizi un po' negativi sui trailer iniziali di Silent Hill 2 e questo trailer è sembrato bello almeno per quanto riguarda, insomma, l'impatto scenico e abbiamo anche una fase di gameplay, se così vogliamo definirlo, ovvero un'antichiella di questo Cronos The New Dawn. Sembra un po' un horror sci-fi, però non abbiamo visto molto altro. Sicuramente, appunto, è uno shooter in terza persona con elementi horror ed elementi di sci-fi, però più di questo, ragazzi, non sappiamo se non che arriverà nel 2025. Ha ricordato Dead Space, ha ricordato un po' Fear all'inizio per i mostri che somigliano, ma no, perché quello è un first person. Insomma, ci ha ricordato tante cose, sicuramente non brilla per originalità, però, ragazzi, l'ambito sci-fi alla fine è questo, eh? Esatto, esatto. Se così vogliamo dire. E' interessante, poi, vabbè, c'è stato un trailer nuovo su Life a Dragon, Parity of the Cousin Hawaii, che ovviamente non c'è molto da aggiungere sul gioco in sé. La cosa però veramente interessante è che il gioco è stato anticipato di una settimana. Infatti era previsto per il 28 di febbraio 2025, invece uscirà il 21. Questo probabilmente per evitare la concomitanza con l'uscita di Monster Hunter del No-Wilds, ecco, e quindi per evitare, insomma, questa coincidenza non ottima, soprattutto per il mercato giapponese, hanno anticipato e secondo me hanno fatto bene. Sembra interessante, come tutte le produzioni RGG Studio, però Midna mi diceva che non è sicuramente quella che, almeno a primo impatto, a primo acchitto, ti ha avvinto di più. No, esatto, cioè, io ovviamente non vedo, cioè, vedo sempre, ho sempre molta attesa per qualsiasi gioco della serie Life a Dragon. Figurati io, sì. Questo però, boh, non lo so. Il tema piratesco e anche tutto questo action non mi fa impazzia. Possiamo però dire, con cognizione di cause, senza neanche giocare al gioco, che è già sicuramente meglio di Skull & Bones, signori. Questa era proprio una frecciana abbordata. Poi abbiamo Mouse, P.I. for Ayer, che significa Player Inside for Ayer, ovvero il gioco si chiama Mouse e sostanzialmente con uno stile cartunesco anni 30 che richiama appunto i vecchi episodi di Mickey Mouse e anche Caped, se vogliamo, che poi si ispira a quello stile lì, però tutto in bianco e nero, con uno stile anche noir perché sembra ci siano non soltanto le fasi FPS ma anche le fasi investigative in cui, e vediamo se ce lo fanno vedere, dobbiamo fare delle fotografie e anche parlare, vedi qui sta facendo la foto, e anche parlare con alcuni personaggi. Questa è una cosa interessante. Molto interessante, anche se già si era visto. Certo che si era visto. Questa è una novità. Comunque ragazzi, la maggior parte dei giochi che stiamo vedendo adesso sono destinati al 2025, ma questo è normale, ormai siamo a ottobre. Diciamo che è le Jason Fee per quest'anno. Le Jason Fee, signor. Le Jason Fee, quindi andiamo avanti. Bella questa grafica personalizzata che hanno fatto con Xbox Series X, sì, ci sta in un evento Xbox, giustamente. Molto bello. Abbiamo anche l'annuncio di Subnautica 2 che sarà anche nel Game Pass, quindi questo è interessante, soprattutto per utenze Xbox, uscirà nel 2025. Non è stato mostrato niente del gioco, se non appunto questo trailer. Però è il secondo episodio, più o meno, insomma, chi ha giocato a Subnautica. Perché io non ho mai giocato a Subnautica e devo recuperarlo, è nel mio backlog, anche se forse la talassofobia potrebbe... Ma io non sono talassofobia. No, infatti io non so perché la stai chiamando in causa. Niente, era un po' così, tanto per dire una minchiata. Tanto per dire. Animal Well arriva adesso su console, quindi questo è semplicemente un piccolo annuncio, come dire, en passant, en passant. Oggi francese, Midman. Francese, ma pure io, perché ho detto prima Federal Bureau, che poi in realtà non è francese, è anche, come si chiama, Cabel Management. Poi abbiamo Eden Zero, ecco. Esatto, che arriverà su console e PC nel 2025, appunto deriva proprio dal manga, è omonimo. Sì, beh, su questo onestamente non ho molto da dire perché non conosco il manga. No. Sicuramente però è un action RPG in pieno stile anime, con una grafica in pieno stile anime. Direi di andare avanti, ecco, dopo questo. Sì, allora abbiamo Eternal Strength, che mi sembra molto interessante, soprattutto perché combina le magie in modo particolare e praticamente le magie colpiscono gli arti in modo diverso e i vari nemici hanno dei punti deboli. Ora, lo stile estetico ricorda un po' un Immortals o un Dragon Age? Ricorda moltissimo Immortals Fenyx Rising, assolutamente, anche come location un po' ellenica. Però effettivamente hanno lavorato a questo gioco degli ex di Dragon Age, degli ex di Assassin's Creed, quindi anche per questo motivo, insomma, vediamo delle similitudini. Però effettivamente il sistema di combattimento dovrebbe avere appunto delle originalità derivate dalle combo di magie. Ah, mi metto così io, faccio quello scomodo. Ecco, poi Mistfall, attenzione, Mistfall Hunter, ecco. Anche questo... Allora... È sembrato interessante, però anche fottutamente Elden Ring Inspired, anche come dire, quello che sembra la mitologia, l'aspetto scenico. Sai cos'è? Che è stato descritto, praticamente è un action in terza persona, PvP e PvE. Sì. Viene descritto come un miscuglio tra un Souls-like e un Extraction Game. Souls-like nominato, signori. Ecco. Ecco, è appunto quindi un Extraction RPG PvP di PvE. Quindi, multiplayer. Che uscirà nel 2025 anche questo. Io dicevo, ispirato a Elden Ring come stile anche dei mostri. All'inizio si vedeva quella con la treccia che sembrava un po'... Sì, esatto, perché stile norreno. Mentre questo qui è Wild World. Niente, questa è un'altra delle opere di Annapurna, classico stile, diciamo, dei giochi colorati di secondo... diciamo, doppia A. Va bene, l'abbiamo portata a casa. No, forse più indie, se vogliamo. Uscirà all'inizio del 2025 senza ancora una data precisa per Xbox Series XS, PS5 e PC. Ecco, questa breve postile, breve note, insomma, su Fasmophobia. Il 29 ottobre arriverà quindi su PS5, PSVR2, Xbox Series XS e Steam. Ecco, anche su PSVR2. Poi, andando avanti, questo gioco c'è già su PC, insomma. Sì, esatto. Non c'era troppo da soffermarsi. The Legend of Babu, chiaramente, ha aperto i nostri cuori per il cagnolonazzo. Il cagnolone. Sembra fatto nettamente meglio di tutto il resto dei personaggi. Poi, come gameplay, mi ha ricordato un po' una sorta di Kena, però forse un po' più action. Ma è un action, è un action, chissà se avrà elementi di qua e di là, con le vernici gialle anche qui. Eh, stai vernici gialle, ragazzi. Le vernici gialle, però sto cagnolone è quello che chiaramente ha conquistato. Guarda che c'è là, guarda che c'è là. Ma a me ha conquistato questo, Wu-Chan Fallen Feathers, da un team cinese, che sì, ragazzi, se vi ricorda Wukong nel titolo, lo ricorda un po' anche nel gioco, nel gameplay, infatti è proprio un action. Ecco, lo vediamo all'opera. Anche più intenso, forse, di un Wukong, quindi magari tecnicamente non siamo a quei livelli lì, però sicuramente, vedi, anche ispirato dal punto di vista dell'estetica dei nemici. No, questo sembra favoloso. La protagonista è donna. La protagonista è donna, quindi molti non lo giocheranno. Io dico questo, sembra favoloso e a differenza di Wukong, la grafica non è spacca mascella come quella di Wukong, però ragazzi, questi team cinesi sono veramente brillanti ultimamente, stanno ribaltando un po' il mercato, però stanno facendo produzioni, fottendosene di tutto e tutti, in maniera convincente e non soltanto a partire da Wukong, Wukong è la consacrazione, diciamo, è stata di questi team, ma anche questo sembra molto interessante. Comunque anche graficamente sembra una bella produzione e qui c'è una bella notizia perché uscirà anche su Game Pass al Day One. Sì, questa è una bella cosa, ovviamente sempre l'anno prossimo. 2025 però sul Game Pass al Day One. e poi l'evento si è concluso con questo, FBC, cioè Federal Bureau del Control, del Control, Firebreak. In realtà questo è appunto un gioco multiplayer basato sull'universo di Control. Sì, questo è quello che mi ha, non è che mi ha convinto di meno, magari sarà pure bello, sarà divertente, interesserà a tanti, però è quello che tra tutte le produzioni mi ha interessato meno, perché va bene Control, io l'ho apprezzato, tuttavia non sentivo il bisogno di un live service su questo mondo, su questo ecosistema e peraltro che sembra stracambiare un po', no? Vabbè, diciamo che per me è una cosa trattante, però gli appassionati potranno avere modo, di questo si dice quando non sai che dire. Sì, esatto, non so che dire ragazzi, non è il nostro, però sicuramente... Comunque questo uscirà quando? Non c'è scritto. Adesso magari lo scriviamo qui in sovraimpressione ragazzi. Per tutte le date e per tutte le piattaforme di riferimento troverete nel primo commento in evidenza tutto un elenco che curerò io personalmente e qualora ci fossero errori vi pregherei anzi di dircelo. Queste live di recap chiaramente sono più puntate sui giochi che vengono presentati per discuterne insieme, per capire un po' il livello d'attesa da parte nostra e da parte vostra anche rivedendolo con noi qualora brevemente possiate appunto avere modo di vedere questo video non avendo visto e seguito con noi la live. Signori! Allora, voi fateci sapere che cosa ne pensate di questo evento comunque onesto per quello che voleva essere un partner preview noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima! Ciao!